Pronto? Pronto Gino, vedi che è appena successo una cosa che è successo e non mi fa più la macchina forse deve essere entrata un poco di acqua dentro al al carburatore scusa e poi mi devi dire dove si trova il carburatore dentro la macchina e la macchina dove sta dentro a me eeeh ma non si vede più dentro al mare madonna soncia che brutto